Salve a tutti. In questo video, si preannuncia un evento straordinario che scuoterà profondamente la vita della famiglia di Fekeli. Prima di proseguire, se desiderate, lasciate un apprezzamento e iscrivetevi al canale per rimanere aggiornati sulle prossime anticipazioni. Ecco il racconto. Durante una giornata come tante altre, la dottoressa Mugeigan riceve una proposta di lavoro presso un ospedale di Istanbul. Pur amando il suo attuale ruolo e godendo di una vita piuttosto serena, decide di valutare l'offerta. Ha Fikret al suo fianco, ma la loro relazione inizia a vacillare quando Mugeigan scopre che il ragazzo è coinvolto in un incidente domestico che rischia di costare la vita ad Umit. Fikret nasconde l'episodio, ma quando Mugeigan ne viene a conoscenza, perde completamente la fiducia in lui e lo lascia. Prima di partire per Istanbul, però, decide di mettere alla prova Fikret e di osservare ogni suo movimento. Nonostante la loro separazione, Fikret non sembra avere alcuna intenzione di cambiare, il che porta alla fine della loro relazione e alla scelta di Mugeigan di accettare il nuovo lavoro. Fekeli, pur non essendo del tutto convinto, sostiene la decisione della figlia e si prende cura di suo figlio fino a che non troverà una nuova abitazione. Nel frattempo, Fikret incontra nuovamente Umit e i due mettono in atto un piano di vendetta contro Demir. Alla fine, Mugeigan deve accettare la realtà e Fikret per ciò che è, ma con il sostegno della sua famiglia, guarda con ottimismo al futuro. Mugeigan una volta sistemata, tornerà a casa, a riprendersi il suo bambino, ma qualcosa andrà storto. L'aereo sulla quale lei è diretta, cadrà, e lei perderà la vita. Poco prima di quell'evento Fekeli e Fikret, sono molto contenti del ritorno di Mugeigan, perché Fikret, gli vuole chiederle di sposarlo. Però la loro felicità viene placata dalla radio, perché sentono che l'aereo su cui viaggiava Mugeigan, è precipitato. Perciò dopo Anka Reilmaz, Fekeli, perderà anche Mugeigan e rimarrà solo. Inoltre il bambino sarà orfano di entrambi i genitori. Tutti si sentono in colpa per la sua morte, soprattutto Fikret, che non doveva tornare da Umit, ma doveva restargli più accanto. Un'altra tragedia si è consumata. L'anticipazioni terminano qua. Se ti è piaciuto il video, iscriviti. Ci vediamo al prossimo video. A presto.